Con l'arrivo delle festività natalizie la Guardia di Finanza sta iniziando il potenziamento dei controlli sui giocattoli e articoli da regalo. La scorsa settimana infatti sono stati scoperti 10.000 pezzi irregolari in un negozio di Port Empedocle. Sempre in provincia di Agrigento, in questo caso a Favara, le fiamme gialle di Agrigento hanno sequestrato circa 40.000 pezzi fra giocattoli e oggettistica per la casa. Anche in questo caso il sequestro è stato realizzato in un negozio di proprietà di esercenti cinesi a cui sono state elevate anche sanzioni. La merce, tutta sistemata negli scaffali e pronta per essere venduta, è risultata essere quasi tutta di produzione cinese. Tutto oggettistica che non riportava nessuna indicazione e descrizione in lingua italiana. In alcuni casi i giocattoli erano privi delle indicazioni minime come le istruzioni e le precauzioni per l'utilizzo. Accertate le violazioni, i militari della Guardia di Finanza hanno sequestrato i giocattoli e hanno multato e segnalato per violazione in materia del codice del consumo l'esercente commerciale cinese. Continuano intanto i controlli sulle attività commerciali che commerciano giochi ma anche oggettistiche e articoli da regalo. Le forze dell'ordine vanno alla ricerca soprattutto di giochini non sicuri, quelli che non hanno le avvertenze in italiano e quelli che non hanno il marchio CE, il marchio che certifica la conformità dell'oggetto. Quando si compra un gioco per bambini è importante che ci sia la presenza del marchio.